Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Andiamo, ti aiuto a salire Grazie Seguimi Visto, era semplice E adesso? Pazienza Quassù Sul serio? Sul serio? Questo è pericolante Sicura che è sicuro? No No Forza Di qua Ci stiamo allontanando dal covo di Atapa Sì, facciamo un giro lungo Ora so perché ritardo sempre Sì, facciamo un giro lungo Sì, facciamo un giro lungo Sì, facciamo un giro lungo No, ci penso io Compra 1, compro 5, passo Ricevuto, patta 1 Al Big Lotus C'è movimento Passo Ora, da che parte? Su Grazie a tutti. 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 Un problema in meno. L'ha appena sopra... Visto? Non era così difficile. No, sono sempre... Ci vorrà solo un attimo. È una... O anche così... Lo prendo in prestito. Fraser, viene. È chiusa. È chiusa. È chiusa. Non allungo. Che era quello? Gati occidentali. Territorio Oisala. Marta. Marta. No, tutto posto. Nulla che non sapessimo già. Marta. è chiusa. 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 senti il lavoro? So che la Shortline ha cambiato gestione. Incidenti di percorso? Nulla di irrisolvibile. Ma, certo! Certo! Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Cloufreser, collezione antiquariato. Una ladra. Lavori per una ladra. Signore, abbiamo un problema. Che c'è? Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un... semplice... ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oissala. Davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo tre invasioni persiane, tre diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. È la vostra unica speranza di capire quanto meno dove andare a cercarla e affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oissala. Esatto. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio. Lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve. Ci buttiamo da sole. Prezzetene. Ora, diretta. Prezzetene. Perda. Forza. Dobbiamo attraversare il fiume. Eccole lì. Finentene. Allora, ok. Mettete fuori. L'acqua, 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 l'acqua. E' di qua. E' di qua. Dannazione. Vado a salvare. Qui dentro, presto. Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Ti hai permesso a Dasab di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vale davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non è il fizio. Tu non sai niente. Su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì. Meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Forza! Sono qui dietro. Sono fuori. Ehi, è pericoloso! Salta! Sì, è pericoloso! Sì, è pericoloso! Oh, no! Pesa! Grazie! Forza! Eccolo al disco. Sì. Muoviamoci. Aspetta! Per l'amor di mio! Oh, no! Ma aspettati! Sì, è di giù la mano! Oh, no! Oh, no! Sono andati giù come venivi. Ragione volare! Andiamo! Sì, è pericoloso! Sì, è sempre meglio! Almeno non sta diluviando! Seguimi! Il fiume è di sotto! Scivola lungo le luci! Si, è vero! Si, è vero! Ah! Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisala. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto, stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia. Quella di Parashurama. E... L'Asha era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse l'azzanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo l'azzanna. Niente male, Fraser. Sì, beh... Ringrazia mio padre. La mitologia induista era il suo pane. Segui le sue orme. Sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. E... È qua. Oh, no, manca poco. Oh, mi hai fatta di strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Eh, bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Klo. E ho in sala? Oh, il sala non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? Abbiamo fatto cento chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna. Asav è tuo. D'accordo. Ti aspetto alla macchina. Ok. Forse dovrei seguire il sentiero. Panorama mozzafiato. Grazie. Grazie.